vi come viaggi benvenuti a bordo cari amici di vg channel oggi un'altra grande novità pronti per decollare da napoli verso l'aeroporto gfk vi parliamo oggi infatti del nuovo volo della delta airlines da maggio collegherà la nostra bella città la grande mela e da lì come ascolteremo poi dalle parole del vicepresidente verso altre 50 destinazioni restate con me motivo di grandissima soddisfazione per noi perché delta è un altro colosso del trasporto aereo mondiale una compagnia da oltre 200 milioni di passeggeri l'anno che grazie a una fortissima domanda di traffico dagli stati uniti per l'italia ha deciso di aggiungere al proprio network italiano lo scalo di napoli quindi avremo un collegamento diretto giornaliero napoli new york jfk a partire dal 25 maggio buongiorno sono matteo curcio senior senior vice president in iei di delta airlines siamo assolutamente felicissimi di essere finalmente a napoli io da napoletano sono ancora più felice come puoi immaginare delta sull'italia il più grande vettore internazionale più grande vettore dagli stati uniti quindi l'italia per noi ha un posto speciale nel nostro network per l'europa quest'estate abbiamo volato il più grande network sull'italia della nostra storia e quest'estate che arriva tra poco voleremo un network ancora più grande ancora più grande con l'aggiunta di napoli come nuova destinazione che si aggiunge a roma a milano ea venezia che sono già nel nostro portafoglio network napoli è una destinazione in crescita strepitosa se si vedono i numeri dell'aeroporto di napoli sono impressionanti è una delle destinazioni europee che è cresciuta di più negli ultimi anni e questo chiaramente per noi è fondamentale sia perché porteremo traffico americano che viene a visitare le bellezze del luogo e come sappiamo la costiera amalfitana capri pompei sono tutte oramai destinazioni che rientrano nel nelle priorità del turismo internazionale ma chiaramente delta è il primo vettore americano a new york a jfk che è un nostro hub e quindi chiaramente saremo in grado di portare tutta l'utenza del sud italia e chiaramente del bacino di napoli dovunque negli stati uniti e nel nord america grazie al nostro prodotto via jfk e quindi grande potenzialità primo volo 25 maggio ultimo volo al momento 26 ottobre da napoli primo volo da napoli il 25 maggio da new york il 23 maggio la domanda già sta rispondendo in maniera molto positiva stiamo guardando i nostri booking per giugno e luglio e stanno sono in linea con le nostre aspettative che sono chiaramente aspettative molto molto positive e quindi non potremmo essere più felici di essere in questa cornice bellissima e festeggiare insieme il nostro nuovo volo le farei una domanda da un milione di dollari quasi tutti i voli delle compagnie che collegano napoli agli stati uniti sono stagionali c'è la possibilità che questi voli diventino annuali naturalmente l'obiettivo del primo anno soprattutto per il lancio dei nuovi voli come questo delta e che funzionino benissimo nella stagione estiva naturalmente se così sarà sarà più facile poi un'estensione del volo anche nei mesi invernali un'estensione del volo anche nei mesi invernali